Capitolo decimo di Le storie del castello di Trezza di Giovanni Verga Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico, letto da Francesca Roma. Capitolo decimo La sera che non doveva più trovar Corrado nel castello si avvicinava rapidamente, ed egli non si rammentava nemmeno della terribile minaccia di quel signore che giammai non minacciava in vano. Era pazzo d'amore, avrebbe pagato con la testa un quarto d'ora di colloquio con la sua signora. Il barone prima di andare a dormire soleva fare tutte le sere la visita del castello. Corrado contava su quel momento per avere un'ultima spiegazione o un ultimo addio dalla baronessa. Allorché tutto fu buio, si insinuò non visto nel ballatoio, e venne a riuscire dietro la finestra di Donna Violante. Don Garzia era seduto con le spalle alla finestra e stava cenando. La moglie era gli di faccia, col mento sulla mano e gli occhi fissi, impietrati. Ad un tratto fosse presentimento, fosse fluido misterioso, fosse qualche lieve rumore fatto dal giovane con l'appoggiare il viso ai vetri, e la trasalì, alzò il capo vivamente, e i suoi sguardi si incontrarono con quelli del paggio a guisa di due correnti elettriche. — Cosa avete? domandò il barone. — Nulla, disse la bianca e impassibile come una statua. Il barone si voltò verso la finestra. — Che rumore, ecco testo! Donna Violante chiamò la cameriera e le ordinò di chiudere bene. Era fredda e rigida come una statua di marmo. — Sarà il vento, soggiunse, o la finestra non è ben chiusa. Corrado ebbe appena il tempo di rannicchiarsi rasente al muro. Il barone di tanto in tanto volgeva alla sfuggita sulla moglie uno sguardo singolare, e cosa più singolare era sobrio. — Non bevete un sorso? domandò versandole del vino. Ella non lo so rifiutare. Alzò lentamente il bicchiere, e si udirono i suoi denti urtare due o tre volte contro il vetro. Poi rimase pensierosa, ma con certa ansietà febbrile, gettando sguardi requieti qua e là. — Bisogna che vi cerchi un altro paggio, ora che Corrado è partito, disse il barone, figgendole gli occhi in viso. Donna Violante non rispose, ma levò gli occhi anche lei, e si guardarono. Il barone beve un altro bicchiere di moscato, e si alzò per andare a fare la ronda della sera. Come fu sola, la donna si levò anch'essa, quasi spinta da una molla, e si diede a passeggiare per la camera, agitata e convulsa. Ogni volta che passava dinanzi alla finestra vi gettava un'occhiata scintillante. Ad un tratto vi andò risolutamente, e la perse. Essi si trovarono faccia a faccia, e si guardarono in silenzio. — Ma che fai qui? domandò Donna Violante con accento febbrile. — Son venuto a morire, rispose il paggio con calma terribile. — Ah! esclamò ella con sorriso amaro. Lo sai che t'ho fatto scacciar'io? — Voi? — Io. — Perché m'avete fatto scacciare? — Perché non ho potuto far scacciare me stessa. E perché non ho avuto il coraggio di uccidermi dopo essermi vendicata. — Che vi ho fatto? esclamò egli con le lacrime nella voce. — Che m'hai fatto? rispose la donna, fissandolo con occhi stralunati. — Che m'hai fatto? Ebbene, cosa vuoi ancora? Cosa sei venuto a fare? — Son venuto a dirvi che vi amo. Disse egli senza entusiasmo e senza amarezza. — Tu! esclamò la baronessa, accelandosi il viso fra le mani. — Perdonatemelo, Madonna! aggiunse il paggio sorridendo tristamente. Cotesto amore che vi offende, lo sconterò in un modo terribile. — No, disse ella con voce delirante, non voglio che tu muoia, non voglio più amarti e non voglio rivederti mai più. No, no, vattene! Egli scosse il capo rassegnato. — Andarmene! È tardi! Il pontelevatoio è tirato, e il barone mi ha detto che questa sera non avrebbe voluto trovarmi più qui. Bisognava che io arrischiassi qualche cosa per vedervi un'ultima volta, così bella come vi ho sempre dinanzi agli occhi, e che io paghi con qualcosa di prezioso il potervi dire la terribile parola che vi ho detto. — Ebbene, rispose Donna Violante, pallida come lui, tremante come lui, anche io sconterò il mio fallo, è giusto. In quel momento si udirono i passi del barone, che ritornava accompagnato da qualcuno. — Sì, esclamò convulsivamente la baronessa, ti amo. Sono tua, sia, moriamo, e gli cinse le braccia al collo, e gli attaccò alle labbra le labbra febbrili. Si udì la voce di Don Garzia che diceva al Bruno. — Tu vai al ballatoio, e sta a guardia da quella parte. Corrado si strappò da quell'amplesso di morte, e con uno sforzo più grande di quel che ci sarebbe voluto, per precipitarsi dalla finestra di cui gli veniva chiuso lo scampo, e stringendole la mano risolutamente, — No, voi no, ricordatevi di me, Violante, e non temete per voi. Il povero Paggio saprà morire come un gentiluomo. E mentre si udivano già i passi del barone dietro l'uscio, e Bruno che percorreva il ballatoio, si slanciò nell'andito, che era dietro l'alcova, e in fondo al quale spalancavasi il trabocchetto. Don Garzia entrò con passo rapido, non guardò nemmeno la moglie, la quale sembrava un cadavere, gittò un'occhiata alla finestra chiusa, ed entrò nell'andito senza dire una parola. Non si udì più nulla. Poco dopo riapparve d'arvelo, calmo e impenetrabile come al solito. — Tutto è tranquillo, disse. Andiamo a dormire, madonna. Fine del capitolo decimo